Ciao ragazzi! Grazie di essere qui con me oggi. Oggi voglio fare un get ready with me barra applicare un trucco anche un po' a voi in un po' chiacchierata e ho deciso di scegliere questo microfono perchè trovo che prenda molto bene i suoni della pelle. Rispetto agli altri, quindi condividerò con voi un po' la mia routine di bellezza, diciamo così, anche se vuoi più bellezza, in questo momento ce n'è poca, però sì. Allora, prima di tutto mi nego un po' i capelli e mi scuso per la pelle veramente disastrata, però... insomma ve l'ho spiegato. Oggi è il 3 giugno e c'è la Champions, però... Io non la guarderò perchè mi è per il calcio. Quindi ne approfitterò per dire un po' di video e mi preoccupo per questi perchè non vado fuori. Ok, allora prima di tutto condivido con voi un po' i miei prodotti. Prima di iniziare volevo solo dirvi che questo telo è un telo da mare che mi è stato inviato da SheInside. e di lasciare il link sotto di questo e del tappetino che mi è stato inviato che è questo. che voglio mettere in questo come sfondo, perchè trovo sia molto molto bello il tramonto. C'era anche una foresta di notte, però è lo stesso che a Chichi e non volevo averlo uguale, quindi... Però ce ne sono molti altri di sfondi interessanti, quindi se mi piacerebbe che questa collaborazione, insomma, andasse avanti. Quindi qui sotto ci sono i link, se volete. Sì, comunque vi faccio vedere bene anche il tappetino, magari in un video qui, qui che vedrete in contemporaneo. Ok, questo video voglio farlo in whispering oppure proprio in leggero soft spoken, però credo che lo farò in whispering perchè invece ho fatto con questo microfono. Allora, prima di tutto, allora, per detergere il viso ho questo prodottino qui, della Rilastel che si chiama acqua, della linea acqua, detergente viso. Ha un colore stupendo, guardate, questo tanto azzurro, azzurro acqua, cielo, ricordavi? Molto estivo. E appunto mi bagno il viso con l'acqua calda per dilattare i pori. Poi metto questo, metto proprio un pochissimo prodotto e faccio lo schiuma sul viso e poi sciacquo con l'acqua fredda. Allora, questo è una delle prime cose che faccio al mattino, anche prima di far colazione sono non mi svegli. E se non l'aspetto terrificante, un po' di trucco rimane sempre dalla sera. E ammetto, ahimè, alcune volte sono molto pigra, non me lo tocco neanche. E questo l'ho pagato 4,90 perché adesso c'è l'offerta, perché è un prodotto nuovo, come tipo un lancio e costa poco. E' buono per cose veramente. Cioè, l'ho presa in farmacia, quindi è veramente poco. Purtroppo lo ricomprerò finché è in sconto. Poi, allora, dopo essermi lavato il viso, uso... Questo è come gelare della Garnier. Io mi ci trovo bene, sinceramente, soprattutto a struccare gli occhi. Perché comunque l'allio di cocco che usavo prima mi lasciava l'unto e dovevo farlo molto prima di truccarmi. Ok. E com'è... tipo... no, è... Beh, insomma, cotoncini circolari per... non mi ricordo come si chiamano. E sono quelli per togliere il trucco di cotone circolare. E imbarazzate, non mi ricordo come si chiamano. Uso questi che ho comprato da Primark a 70 centesimi. Però sono finiti, erano 120, sono finiti. Però li uso da inizio aprile, siamo già giù. Va bene? Ok. Fine presentazione ai prodotti che non avrei usato ora. Adesso passo a... Passo a un acquistino molto recente che ho sempre preso in farmacia. E' una trattura per tutti quei prodotti, ti viene veramente da comprarli tutti. Questa è la mia nuova crema giorno e notte, insomma crema idratante. Ed è una bella... è una crema per belli giovani. E per... cioè... primissime rughe. Praticamente non è una crema antirughe, è una crema principalmente idratante. E... E tra l'Iraq... Costava 34,50 ma l'ho pagata 20,70 perché c'era il 40% di sconto. Era tipo il comprano l'Iraq, quello peggio. E ne ho prese due, perché usava veramente poco e l'offerta era minimo due, massimo tre prodotti. Però ho preso anche una crema per mia madre, perché ci ho pensato di prenderne due. Comunque... 34,50 è tanto. Però 20 mi sembrava un buon pezzo. Io ho la pelle normale. Non ho la pelle mista. Ho la pelle normale, però non è secca. Quindi non ho preso la crema, ho preso il gel crema. E questo è buonissimo anche come idratante dopo aver preso il sole. Come dopo il sole. Quindi... Scusate se guardo continuamente alla specchia, ma... Ora un po' mi truccherò, quindi... La confezione così. E ha un odore molto leggero. Però le arima non dà fastidio. Almeno o meno. Io ne prendo veramente poco, perché... Non ne serve tanto. E la vado a stendere. E la vado a stendere. Me la metto bene anche sulle palpebre, perché la uso come primer. Perché... Io non uso il primer per gli occhi. E la metto un pochettino. E la metto un pochettino. Così. Così 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 così. Quindi... Senti che è molto fresca! quindi ecco qui non rimani unta sulla pelle perché appunto è un gel quindi perfetto anche per l'estate poi ultimamente cioè da una settimana sto usando questo gel anti-borse della bionic del campioncino però vi assicuro che ho un campioncino enorme sono 3,5 millilitri si chiama Defensai ed è un gel anti-borse per belli sensibili e intolleranti ora io ho la pelle normalissima però mi sto trovando molto bene con questo campioncino l'unico difetto metto lo specchio qui oddio mi sto piegando non mi sono niente l'unico difetto di questo gel è il prezzo perché costa mi è sembrato di vedere 25 euro e sono 15 mililitri di prodotto poi vi trono una vita perché oddio l'ho messo il gel e ne ho messo anche troppo ne ho messo veramente una cosa ma è già troppo e lo metto un po' qui e qui ne basta veramente poco questo campioncino mi sta donando vedete una goccia questo campioncino mi sta donando un'eternità infatti comunque costa tanto però provo a fare che sia una buona crema poi ripeto magari a me non conviene perché per pelli sensibili e tolleranti quindi il prezzo si alza potrei prendere un gel tipo orse non male però per chi per chi comunque ha bisogno di marche così per la propria pelle consiglio questo gel perché è molto buono per le mie labbra che sono sempre estremamente estremamente secche si è sciolto uso il burro di carete che ora è un po' sciolto perché appunto ha già molto caldo e me lo metto sulle labbra come un burro cacao proprio ok questo idrata veramente dipende tanto e lamento soprattutto di sera proprio andrà a letto e mi trovo il giorno dopo le labbra veramente e anche rimpolvate senti proprio le labbra rinate io soffro veramente di labbra secchissime molte volte mi si tolgono le pellicine e fa male e fa male un po' di burro di carica anche a te che fa sempre bene sulle labbra sentite oddio quando sono stranissime ecco qua ecco qua un po' anche a te poi allora passiamo intanto che si asciuga un po' il gel direttamente alle guance allora io non mi metterò il fondotinta perché d'estate non me lo metto in realtà vi vedete anche molto bianca ma oggi mi sono abbronzata e vi agionnerò su instagram perché magari metto una foto domani perché abbiamo mandato una piscina a casa di mio amoroso ed è stupenda e insomma ho preso un po' il sole quindi prendo un po' di blush dopo vi faccio vedere tutto prendo un po' di blush e lo metto sulle guance visto che sono ancora chiara chiara chiaramente e uso ancora il blush sentite il rumore ho preso in mano però è croppo a me piace puntare con il blush però spero fra poco di convertirlo con la terra infatti io non uso mai terra e blush insieme non li so mettere mi viene tipo lo stacco mi viene rosa bianco terra quindi estate sulla terra e d'inverno invece il blush che è questo qui poi allora passiamo agli occhi comunque ah no ho finito la frase non metto il fondo di entra perché non già la bb cream d'inverno mi mi risulta pesante figuriamoci il 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 fondotinta e figuriamoci estate no 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 riesco a prendere il sole comunque un pochettino di blush per provare le guance un po' rosa vedo un po' l'effetto bruciacchietto da prima sole e poi sugli occhi io ultimamente mi metto moltissimo questi due colori che vi farò vedere che sono Maui e Sand Bars Bars che sono quale sono? questo e questo qui questi due sono estremamente belli ripeto, questa è l'unica palette che uso ed è l'Illuminate by Ashley Dizdale che potete ordinare sul sito di BH Cosmetics e fanno molte offerte comunque per la spedizione, a parte che non costa tanto, costa 6 euro e la palette costa tipo 14 euro, costa pochissimo e ha dei colori super pigmentati comunque potete anche organizzare con una vostra amica e prendere magari uno ai pennelli o una alla palette l'altra all'altra palette è molto bella tutta la linea secondo me potete vedere quali sono i colori che ho più usato cioè questo, questo, questo e questo perché hanno già tipo i pallini questo è l'illuminante ma lo uso anche sugli occhi comunque poi ci metto poi ci metto questo qui più scuro giusto giusto qui e all'esterno io non faccio mai chiesa che tutto è già questo comunque tanto e vi ciò che proprio questo è il mio massimo ne metto ancora un po' ok e a questo punto vado a sfumare con un pennello che ok con questo pennellino qui che come questo mi è stato già inviato dal dal sito Sheinside e sfumo e sfumo e sfumo e sfumo e sfumo bla 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 e sfumo e sfumo anche dall'altra parte non sono una crema e capati questa cioè non lo sono appunto ok comunque questi colori si sfumano veramente bene e si ne ho messo più di qua più di qua che qui ho dato una dita fa il colore tipo tutto illuminato ok a questo punto me lo metto un po' a te quindi prendo quindi mi half e te lo metto qui 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 e nell'altro occhio e chiudi gli occhi e il sandbar dove lo sono messo io a questo punto gli ultimi due passaggi che sono mascara e matita allora io uso questa matita della essence normalissima e mi ci trovo molto bene e allora oggi la metterò solo sopra tipo eyeliner che schifo e peggio di così credo non me la potessi mai mettere qua beh appunto così ci devo fare poi anche degli altri visi ok e a volte la metto anche sotto e la sfumo sotto esternamente però oggi no non mi va infine come mascara uso FAMP il mio amatissimo amatissimo FAMP ancora se lo vedete ma mi è partito tipo il dito con con l'ombretto qui quindi sembra che abbia un sacco di illuminante vabbè me lo correggerò poi dopo comunque qui allora FAMP è in assoluto il mio mascara preferito non che ne abbia provati centinaia ma ne ho provati comunque un po' e tutti anche quelli che costano di più mi fanno le solite ciglia stella questa questo invece no amo questo mascara seriamente e io io la metto solo sopra quando ho la matita solo sopra se no la metto anche sotto però la devo ricomprare quasi finita quasi secco adesso si usa ancora adesso adesso metto un po' che matita mascherate e così giusto una riga di eyeliner giusto una riga di eyeliner qui e tira l'occhio tira l'occhio qui perfetto e un filo di mascara perchè hai delle ciglia stupende qui ok perfetto io amo assolutamente pump è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto allora ok mettiamo un po' a posto poi non vi farò vedere non vi farò vedere la matita o il rossetto perchè non me lo metto perchè adesso girerò un video di hitting quindi non avrebbe senso e già intanto comunque un minimo si disfarrebbe e non mi va che non mi piace mangiare con rossetto proprio sono scomoda e non mi va però vi faccio vedere questa matita la della come si chiama della HC che è una marca che vendono solo in farmacia e che non so se neanche sia ancora in produzione allora il ce l'avevo indosso il video di un trovaltro trigger immagino comunque un video uno degli ultimi video in italiano e mi avete chiesto tutti cosa hai cosa hai addosso cosa hai addosso magari e lo indosserò anche dopo ecco per gli altri video però intanto è era questa non era proprio questa qui era la numero 2 questa è la numero 1 dopo vi faccio vedere alla fine se la metto a fuoco perchè non voglio parlare di fuoco ed è una matita labbra semplicissima e la metterò un po' a te e e oh e niente quindi ha un colore stupendo adesso assumo tutto quando vi saluto e niente spero vi siate rilassati con non vi viene interamente un whispering se volete dare un'occhiata a questo telo e all'altro vi lascio il link già nell'info box e niente grazie sempre 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 del sostegno non so mai quanto ringraziervi abbastanza veramente è un è stupendo avere questo canale e essere sempre in contatto con voi e magari stasera che è un po' mi metterò anche a rispondere ai commenti bene quindi vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video vi ricordo che faccio video ogni lunedì e ogni venerdì e calispera d'acqua gespelli poi ci vediamo consapevole te Grazie a tutti